Allora, questa è una mozione di buonsenso nell'indirizzo politico che questa amministrazione sta dando al Comune di Roma. L'ottimizzazione dei tempi di utilizzo, l'individuazione di sprechi di carburante di venti vari frodi, la gestione del parco auto, diciamo sono tutti temi che praticamente devono essere inseriti nelle flotte aziendali sia del Comune di Roma che delle partecipate. È un'esigenza ormai imprescindibile, prima di tutto perché dal punto di vista tecnologico ormai i costi sono veramente ridotti e stiamo parlando veramente di pochi euro per automezzo rispetto alle grandi capacità di risparmio di spesa. Senza considerare l'aumento della sicurezza stradale che ne deriverebbe perché chiaramente il monitoraggio dello stile di guida dei dipendenti è un tema che sicuramente appassiona molte associazioni e non solo di cittadini che fanno della sicurezza stradale un baluardo di civiltà. Abbiamo cercato anche di analizzare bene le nuove indicazioni del garante della privacy ma anche di recente subito dopo la stesura della mozione ci sono state delle disposizioni che hanno imposto direttamente ai produttori di sistemi di rilevamento GPS di incorporare quelle che sono le esigenze del diritto alla privacy per rispettare proprio il codice della privacy. Quindi tra l'altro sottolineiamo che già in AMA è stato attuato un bando che ha già visto l'installazione di 200 e passa sistemi di rilevazione RFID che consentono, diciamo sono lecitamente utilizzabili anche in assenza di accordo sindacale perché consentono l'effettiva attuazione della prestazione lavorativa. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di sensori che vengono applicati sui mezzi di raccolta dei rifiuti e che praticamente rilevano la quantità e le tempistiche dei passaggi nella raccolta. Sicuramente un'estensione di questo tipo di attività anche alle altre flotte aziendali ricordo anche l'altro parere del garante della privacy che in caso di automezzi della Polizia Municipale lo consente espressamente per tutta una serie di indicazioni di sicurezza. Quindi io veramente invito tutta l'Aula a votare positivamente questa mozione. Grazie. Grazie.